E' quasi finito il gioco, solo un cacchio di piano su Luigi Mansion Siete pronti ragazzi? Perché ora si gioca tutto, guarda fa pure fatica Luigi che è alto come un anno e mezzo Non riusciva a raggiungere il numero 14 Ma sono pronto a raspirare tutto Aiuto, dove siamo? In discoteca? E' qua che vanno i fantasmi a divertirsi, la discoteca dell'hotel Oh Grusi, Bumi Lo sapevo, aiuto Non è un posto per bambini questo, per i bambini Luigi Diciamo sì, oh Ragazzi io potrei stare tutto il giorno a fare sta cagata Quindi è meglio che me ne vado Ok, c'erano altri soldi, dei dischi Ok, ok, veramente Bell'ambiente Molto carino, belli graffitti Ok Ciao miglietto per entrare Non ho nemmeno una bella ragazza che mi accompagni Ah l'ho trovata, aiuto Però è bella Eh, ha mangiato un po' troppo questa ragazza Mi sa Amore Rimettiti in forma per favore Questo vestito rosso troppo attillato comunque fa vedere le tue curve spropositate Via Torna qua Tesoro Tesoro ti aiuto a dimagrire Questa è la cura dimagrante migliore Vedete, si prende il grasso e si sbatte qua e là finché non sparisce Risolto un altro rumoroso problema Eh, ma sì, le discoteche l'unica cosa sono un po' rumorose a volte Questo sì Allora, facciamo così Magari possiamo entrare Cosa succede se lì Oh Sta succedendo qualcosa qua Ogni volta che ne tolgo uno Si sta alzando E quindi se lo alzo del tutto Non parlo più ragazzi Se in discoteca si guadagna così bene Vado a fare il DJ Comunque ragazzi siamo arrivati alla festa Ora non so cosa aspettarmi davvero Un boss Centomila fantasmi che ballano Perché è finita la musica? Eh, Luigi? Sanno che siamo qui? Sì, qualcuno sa che siamo qui Orcorubio così regalato Ma certo Ah Non è proprio regalato a quanto pare Ora arriva Mettaton Vero? Oh yeah Ok, va bene Prendiamo e scappiamo, no? Sì, ti prego Non fartelo scivolare Tieni lo stretto Tieni lo stretto Hello 15 Sì No No, no Aspetta, chi sei? È DJ Trota Porca Trota No, 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 no Volevo farlo io il DJ Al ritmo di rompiballe Eccolo qua Eccolo qua Oh no È arrivato il suo buffo Ma Almeno questa volta Non sono nudi Michael Jackson Vabbè Ma cos'è? Ok, una battaglia All'ultima No, ma veramente No, ma veramente Comunque troppo belli Questi ultimi livelli Troppo belli Sentite Facciamo una bella Un bel ballerino Ok, devo togliere il cappuccio E l'unico modo È soffiarglielo via Vero? O tirargli Aia Fanno male È una danza violenta Guardate che balla pure Luigi Se osservi i loro movimenti Puoi capire chi di loro Ha con sé il pulsante Deve essere Scomodo ballare Ok Quindi Dovrebbe essere uno Che non balla proprio bene Ok, l'ho visto Ok, era quello Come? No, dai Ma loro si dividono Devo farli fuori Finché Ok, aspetta L'ho visto comunque L'ho visto L'ho visto Chi è stato Sto tenendo d'occhio Chi ha quel pulsante L'ho trovato L'ho trovato È questo È questo Era questo Era questo L'ho trovato Dammelo Sì Sì L'ho preso Ahah Trovato E arato Al tappeto Se n'è andato Ecco qua Ok, glielo ho suonate Dove, dove 15 Mio Che schifo Cosa vuole farla Penso di erba C'è il disco d'oro E c'è il disco scotto Aiuto 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 Wow Wow Luigi Ai l'ho mandati addosso Ok, ho capito Guarda che brutta Che sei senza parrucca Che brutta Che era Tutto il suo shard Il suo fascino Era il suo parrucchino Credo che abbia Oh Wow Wow Ok 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 Vacci piano Sono sceso dal palco Vai, vai, vai Glielo ho ributtato sui capelli Glielo ho ributtato Sì Sì Gli ha dato fuoco di nuovo Yes 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 Ragazzi manca poco Non ha più dischi Ormai sei fallita Sei fallita Sei fallita Banana cicchita Riprenditelo Riprenditelo Tu avrai un giradischi Ma tu hai mi fatto girare Le balle Vieni qua Ok, ok È morta Ce l'abbiamo fatta Ah Tutta spettinata Sì, sì Saluta il pubblico Mamma mia Sta pure ballando dentro Mi sa che avrà creato Una discoteca Con tutti i boss Dentro il popo Va bene Popo comanda Comunque Mamma mia Ho l'intestino Leggermente Intasato Abbiamo recuperato Il pulsante Quindi è stato Veramente facile Questo livello Io mi immaginavo Otto anni Camminare Quintorno Ma è stato Molto molto semplice Cioè prendere il nostro pulsante Quindi praticamente ora siamo alla fine del gioco Se tutto va bene Bene dai Non è durato per niente tanto Ma qualcosa mi dice che non è ancora Finito Esatto in realtà ci sono tutti i suoi ballerini che vogliono Rovinarmi la festa Ma gliela faccio io tranquilli 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 So io la tattica Ecco qua Il mio genere musicale è Botte da orbi Ecco Violenza fa rima con violenza Ricordatevelo Dioppi doppi Oh yeah Ok Numero 15 E non è successo niente Signori l'ultimo piano L'ultimo cacchio di piano È stato più semplice Del previsto Ora si gioca tutto però Ora si gioca veramente tutto Che bello però Oh Luigi Ah Luigi Quindi È qui Tutto qui Nell'ultimo piano Sembra La suite di lusso Guarda come stavano comodi Mentre io faticavo lì sotto Un film Ah è lei La trotta vecchia Fa finta di essere giovane Oh Devo rendermi presentabile Come faccio Come faccio ad avere del personale così incapace Luigi non avrebbe mai dovuto arrivare fin lì Però sembra che lei ci tenga Luigi se si rende bella Forse sottovalutato te quel professore Forse Complimenti per essere arrivato fin qui Ma ciò non significa che tu abbia vinto A pensarci bene Capiti giusto a proposito Luigi Tu sarai il mio regalo più bello Per V Dopo averti catturato ti offrirò a Red Bull E lui mi adorerà per questo In fondo è andato tutto per il verso giusto Se ti fossi messo un fiocco in testa Come un pacchetto regalo Sarebbe stato perfetto E sarei stato anche kawaii Forse Red Bull ti metterà in bella mostra accanto a questo dipinto Glielo chiedo di sicuro Mario Mario perché Luigi Se vuoi salvare Mario Dovrai trovarmi Sempre che tu non ci lasci le penne per il terrore Prima del tempo Io comunque sarò qui ad aspettarti Mi faccio bella E foto monella Porca trova Mario Una signora in crisi di mezza età Poverina Andiamo a sistemarla Luigi hai visto? Era tuo fratello Ciò significa che la proprietaria dell'hotel si farà finalmente vedere È giunto il momento che la affronti e la sconfigga una volta per tutte Trovala E salva Mario Grazie professore per i tuoi Utili Consigli Ora ragazzi dobbiamo capire perché qua sicuramente sarà il livello più difficile Pieno di segreti E di cose da scoprire Quest'albero Qua c'è della sabbia Un albero sabbioso E ci deve essere un motivo A parte tutti i soldi che nascondono Vediamo qua C'è un buco Vediamo cosa succede qui Ok c'è un tubo Apriamo qua allora Signori Ahia mi è volato in testa Ok piano come Luigi Mi butto giù Mi butto giù Ok 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 Andiamo allora Oh a inizio al nostro viaggio Oh c'è una telecamera Aiuto Mi hanno visto credo di sì Rebu guarda Abitava anche nell'antico Egitto lui Sono egiziani Quella è la loro vera natura Ok Il gatto infatti era un gatto egiziano Sì Ma era tutto a senso Posso provistare nel cestino Troppo pulito questo ambiente Ma cosa succede se vado dentro queste stanze e trovo oro? Ok Ah una chiave Ok Servirò sicuramente a qualcosa Probabilmente a raggiungere la cima Di questa Ahia Attento Luigi Questo posto è pieno di laser invisibili Perché lo dici sempre dopo che mi becco una botta? Mannaggia te Hai visto? Che c'è della polvere per terra Con un sobbalzo puoi sollevarla per un po' Di tempo individuale il laser Ok benissimo Quindi la polvere ci farà individuare il laser Va bene Ok non è difficile Sembra abbastanza semplice in effetti Dobbiamo aspettare Ok ora andare avanti Benissimo Ora occhio a questa dannata porta Allora vediamo Ok 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 Che qua Uh 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 Perfetto Sì là c'è il pulsante Dobbiamo disabilitare Qua ci sono ragni Quelli che portano il guadagno Appena se ne vanno da qui Posso passare Ok Wow Wow Sì Wow Ora devo solamente mettere il mio stura lavandini Ok E tirarlo quando non c'è il laser Bene Credo che abbiamo spento il sistema d'allarme Ottimo Anche lì spero E la chiave rimane Ah Menomale La chiave È nostra Non so ancora cosa mi serva Ma l'importante è averla Probabilmente più avanti andiamo Più ci potrebbe tornare utile Bene Oh qualcuno sta già facendo della festa Aia Dove sono tu? Dove sono? Oh cavolo Oh cavolo Oh cacchio Aia Che male Stanno scappando in giro Su quei mattacchioni Ci penso io Ci penso io Aaaaa Wow Wow Ok 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 L'ho tenuto L'ho tenuto Perché dovete sempre rovinarmi la festa Bene Ormai sono gli ultimi superstiti Qualcosa mi dice che abbiamo bisogno di un'altra chiave E si trova proprio in questa stanza Che non c'è Ma si può aprire così Grazie alla mappa Hai capito? C'è finta di non esserci Ma in realtà c'era E come se c'era? Oh guarda un po' te Ehm Devo fare qualcosa con questa pala? Magari spegne le fiamme? No Wow Sì C'è una chiave lì Aia ma c'è del laser Oh cavolo No 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 Ok allora devo Probabilmente cambiare piano ancora Eccolo là Il generatore Puoi vedere che ha aperto dall'altro lato Quindi devo mandare uno da quella parte Secondo me è così Porca trota Ho capito Andiamo nel contrario Perfetto Quindi ora posso andare dalla parte opposta Ottimo Togliere l'energia Benissimo E ora dovremmo essere riusciti a fare il tutto Ce l'abbiamo fatta Eccola qua Ottimo Grande Come Luigi Grande Abbiamo un ultimo cesto Altri soldi Siamo quasi a 40.000 Dai Cosa c'è qui dietro? Amazon Ti sei dimenticato le mie consegne Ecco dove erano finite Ok ora altri mostri Vero? Io lo so Vi conosco Vero? Aspetta che si chiude tutto Non lo so Però ci sono altre stanze qui Immagino che ci siano ancora Eh sono quattro le chiavi Vedete? Altre due stanze qui Una proprio qua Bella nascosta E ognuna dobbiamo aprirla Vero? Venite da babbo C'era un quadro qui con un po' di soldi Yumbini di Yubiti E anche oggi si mangia Se non avesse sti soldi Luigi non potrebbe manco mangiare Hello Che facciamo? Aia Oh di nuovo questo laser Ma inventatevi qualcosa di nuovo Allora è pieno di laser In alto E perché in alto? Perché vogliono nascondere qualcosa A Luigi Sì Sì Oh Passaggio segreto Oh Ok Wow Ok 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 Ah Ok Ora si inizia a ragionare Beh Ok Ho capito Ho capito che devo fare Aiuto 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 C'è pure il laser C'è pure il laser Oh 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 No Bravo 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 Sì Ok Benissimo Ok ragazzi E là c'è un coso d'oro Vabbè ma non li sto collezionando al momento Quindi Casomai mi farò un nuovo save per prendere quelle cose Luigi Sei stato un buon amico Abbiamo anche la terza chiave Ok Oh Erano caduti dei ragni Aspetta Non posso più prenderli Che cavolo sta succedendo? Mi state costringendo Ehi Oh no Oh no Oh no Oh 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 Wow Tutti quelli che ho balzato nel corso della serie Tutti qua Per vendicarsi Ah Uno ad uno mi farò fuori Ah 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 Questo era l'ultimo Dei 400 fantasmi Che mi hanno attaccato Questa è l'ultima ragazzi Questa è l'ultima Un altro che si fa una doccia Cos'è? Un diamante Ah la chiave è là dentro mi sa Ok Però ovviamente serve pure una chiave per entrarci Ok Ok Aia Ah laser Oh cavolo Oh cavolo Oh cavolo Ok Ok Oh cavolo 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 Ma non può neanche andare Gummi Luigi Dobbiamo spegnere l'acqua In questo modo Può andare Gummi Luigi Probabilmente c'è qualcosa che deve fare Quindi buttiamolo qui dentro Uh Papera gialla Porta guadagno Venite qua ragnetti Alla fine non sono arachnofobico Perché basta un colpo di torcia E spariscono Non è che devi combattere con la scopa Ok è stato semplice È stato molto semplice Disattivare il sistema Quindi ora posso andare qua E prendere forse Uh forse devo Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì loro non possono acceccarmi ci sono all'ultima battaglia laser vabbè quelli sono scarsi fanno fanno pena fanno pena tranquilli basta fare così andiamo direttamente da questi poi li prendiamo tutti guarda in un nanosecondo aia aia c'è del laser ma no forse sono un po più del dovuto sono un po più del dovuto sono tantissimi sono veramente ok siete un po troppi mamma mia santi numi e sono arrivati anche quelli normali quello non vale ecco è lo sapevo ok ok cavolo ok li uccisi tutti no perché mettermi le trappole mentre attacco i fantasmi è proprio una mossa bassa bu è bu bu e le tue mosse basse bu risarcimento risarcimento mettiamole tutte dai abbiamo tutte e quattro bravo uno ok non è finita qua ecco vai avanti guarda ho tutto il giorno osservale per bene fatele rubare non farti rubare l'ultimo ti picchio secondo me ci abbiamo fatta focus 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 oh secondo me il boss finale bu vero è ovvio mario mario quanto ti ho aspettato sempre salvarti io la vita ah ma c'è pure mortisia la nabbina bene 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 non pensavo che avessi la staffa per arrivare fin qui un fifone come te chi ne avrebbe mai detto è stata la mia fifa salvarvi hai messo su quadro il mio tel catturato il mio staff con quell'aspirapolvere e soprattutto hai avuto la faccia tosta di sottrarmi il mio tesorino la mia preziosissima polter micia questo non doveva accadere tanto anche voi più becca di prima aiuto già prima non era proprio giovane ma adesso è proprio proprio inguardabile orco cane proprio più si arrabbia più le lunghe non saresti dovuto riuscire a scappare via da rebu come il mio misero dei codardi se ti fossi lasciato intrappolare in quel quadro rebu mi avrebbe lodato per le mie abilità e invece invece ho perso la casa a casa tua ok aspetta torna giovane torna già meglio già meglio anche i miei occhi stavano soffrendo vogliamo iniziare dovrò occuparmi io di te in questo modo rebu si fiderà nuovamente di me e si renderà conto di quanto possa essere inutile sei pronto luigi fammi divertire dai snap snap de dita mi accudo in un bolt di massima sicurezza a mario è andato a fan cuore e sono da solo la boss finale è lei la boss è lei aiuto ok è dentro il televisore ma come fa oh oh è laser è laser lo sapevo sapete usare solo quello ok ok stai vivo dai vivo ora andiamo per di qua ok vai 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 c'è qualcosa che devi fare non so cosa ma c'è qualcosa che devi fare cioè aiuto aiuto dobbiamo andare avanti loro due deve farmi qualcosa come luigi non so cosa deve fare qua devo fare qualcosa toglierne uno alla volta sì ok ora non può passare ah sta venendo da me vuole trollarmi sì la beccata una volta nooo le dannate barriere mi impediscono di vincere con gusto ok dai ok dai oh dai fai qualcosa perfetto stiamo andando più che bene solo una ne manca solo una ok oh no vuole farmi del male vuole farmi del male ora becco io ora dove scappi non puoi scappare per di là non puoi più scappare sì guarda quanta vita aveva quanta vita quanto benestante era quanti soldi oh oh rivoglio i miei cuori ragazzi sono ore che sto sto saltando laser quanti sono oh no oh no oh no ok ok abbiamo tolti un bel po' vieni qua miramostri abbiamo quasi fatto abbiamo quasi fatto ok non scapparmi ah cavolo è riuscita ad andare dall'altra parte ok ho fatto il mio dovere aaaaaaaaaaaa siiii si la vecchia la vecchia la vecchia la vecchia l'aspirapolvere un secondo ah si va si giustamente battene in bellezza è morta da bella che bella ho rischiato un 19 di vita ce l'abbiamo fatta c'è la sì ok 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 no mio fratello non ci credo dopo tutto sto tempo come a piccia ma lasciamo perdere piccia ha troppe borse per noi trovate in un'altra tanto ti lascio sempre per un altro castello no 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 mario mario ma mario ah sì la principessa p vabbè ok mi tocca farlo sta rivelando una presenza insolita dietro a quella porta luigi sei pronto a continuare se ormai facciamo tutto va bene allora non altri consigli da darti metticela tutta luigi sei prudente no aiuto è diventato alien il professore è stato preso da un alien aiuto che sta succedendo ho paura e mario sta andando senza di me nani mario 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 aspetta oh santo cielo pezzo di letame guarda che fratello veramente è un troll secondo me non è il vero mario ho visto qualcuno per un secondo ok luigi è diventato nuovamente creepy questa cosa mi piace perché è così che deve essere il gioco oh no perché hai fatto questo mario stai calmo ho capito che non ti muovi da quattro anni ma stai calmo devo fare le cose con calma cioè qua rischiamo di morire ok mi sa ragazzi che da qui non posso più tornare indietro non posso più tornare a prendere monete questa è tutto ragazzi qui si gioca tutto o santo cielo che fratello infame no ragazzi la fine è la fine lo so ma c'era un ragno lasciamo stare no dove stiamo andando oh signore ora come contento lui come si muove come a suo agio mario sì sì ci sono una scala io non ho le attuabilità io sono sempre stato quello meno agile ma quello più intelligente che ti ha più salvato io non so nemmeno se c'è un cervello dentro quella testa testa di rapa managia Luigi is my favorite ah io non posso far ste robe giustamente io devo prenderla via più lunga e pericolosa porca trota devo entrare per di qua vero oh no Mario 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 non pensavo che fosse così grande sto hotel cavolo beh è durato un nuovo episodi ok dai che ce la stiamo facendo ok qua altre scale siamo quasi in cima su ragazzi e respirate con me va tutto bene va tutto bene va tutto bene ah è la pitch liberiamo pure lei ragazzi e ce l'abbiamo fatta si tutti oh che bello guarda che bella è più bella dal vivo è più bella dal vivo bacino me lo merito anch'io però eh bacino era una trappola lo sapevo devi essere proprio sicuro di te se hai il coraggio di affrontarmi Luigi avresti dovuto darti la gamba infin che non avevi la possibilità e invece sei rimasto e fatto di tutto per arrivare fin quassù sei un vero incosciente certo hai percorso l'hotel in lungo e in largo grazie a quell'insussa invenzione di strambi risucchiando tutti i fantasmi che hai incontrato ma il fatto che tu abbia catturato tutti quei fantasmi e battuto la proprietaria dell'hotel non significa che ci riuscirai con me quella maleberta crisantemi che rabbia si è fatta sfuggire i tuoi amici non sai quanto è frustrante quando qualcuno che intrappolato in un dipinto riesce a liberarsi malverta crisantemi mannaggia te i fantasmi tutti gli netti come al solito dovrò cavarmela da solo che pigrone ne ho abbastanza non avrò nessuna pietà per te Luigi e per i miei amici basta con gli intrighi e con i piani elaborati ora sperimenterai la forza brutta di Rebù finirete tutti in un dipinto insieme diventerete proprio un bel quadretto mamma mia dovresti fare il comico ah ecco perché volato via ecco vuoi fare in un quadro di nuovo è ciò che vi meritate il mio dipinto deve essere perfetto scusa per l'attesa sei pronto non importa iniziamo ora aspetta ehi avremmo bisogno di un aiuto in più e vabbè mi ha salvato in un certo senso dai sono tornati nel quadro 1 2 3 4 5 6 un attimo ne manca uno dov'è il settimo sono qua sono qua sono ancora riuscito a sfuggirti Luigi cosa stai facendo la e entra subito nel quadro non ne posso più di te puoi combattere contro di me va bene fatti sotto Luigi è arrivata la tua fine una volta per tutte eccomi questa volta sì che mi cago addosso ok ragazzi vediamo sicuramente morirò qualche volta perché non conosco il suo potere arcano ok oh no ho capito ho capito devo andare lì ok sì questa che l'ho capito questo attacco ok ora ruotolerà come una palla mia lingua è stato male ok mi sa che devo aspirargliela mi sa che devo aspirargli la lingua del cacchio vero oh è peggio del laser è più appiccicosa non funziona mi ha fatto qualcosa mi sta facendo qualcosa non so che succede mi sta tirando palle incandescenti non posso rispedirgliele non credo non so che devo fare davvero lo stiamo facendo arrabbiare comunque e questa cosa è buona oppure quanti attacchi hai io lo rispedisco ho capito ho capito che devo fare me lo rispedisco che succede buffa boom buffa boom buffa boom buffa boom ok ho 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 si ho si devo portare dentro anche lui vai vai due guarda che becca attacco lo sapevo che doveva essere in due qua foretto cioè anche non foretto col cacchio merita tutto il dolore possibile immaginabile sto fettuso sto fettuso due anche tu non vale il tuo è più forte oh cavolo ok devo andare qui questo è semplice infatti è più semplice lui della sua crisantemi sei più un nabbo di quella donna vecchia problemi problems ok ma uno è finto vero oh cavolo oh cavolo ok 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 oh oh cacchio ok ma uno è finto uno è finto bene bene vai 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 gumi sta perdendo colpi sta perdendo colpi sta perdendo colpi ridammi i miei cuori ridammi i miei cacchio di cuori e sono miei e sono miei fortuna ci sono quelli se no l'ho fatto incacchiare di brutta barca trota dai 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 ti prego non farmi far tutto da capo pezzo di erba veramente la boss fight che mi sta facendo rosicare cosa fa cosa vuole fare e va bene città città vuole chiudere l'intero palazzo oh ma già e ora posso trollarlo in qualche modo che vuol dire va bene dai tecnica della multi tre minuti o tre minuti per salvare o no oh no oh no solo tre minuti devo anche battere in fretta allora ma va a cagare quindi quello a destra e quello vero oh cacchio 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 oh wow 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 è impossibile è impossibile ragazzi devo subito tirarla oh no oh no oh no oh mamma mia oh no oh no oh no oh no oh no porca trota che quello è quello vero quella destra ti prego tirami le bombe devo fare in fretta cioè me ne tirate troppe durava troppo poco oh no oh cacchio oh no oh no oh no oh no oh no oh oh no oh no don'attacco guarda è impossibile dovrei andare lì che la non attaccheranno caffan cuore ne no non posso morire non posso morire non posso morire dai tiratemi ste bombe ora le prendo subito se le tirano le prendo subito No, ho ancora quell'attacco Cavolo Porca vacca Scemo, non capisco la fava Stai felice? Adesso muoio per le bombe Lui è quello a destra Boom Subito Mi riprende i cuori, mi riprende i cuori Mi riprende i cuori Mi riprende i cuori Vai, vai, vai Ok Ok Come on Come on Sì Vai 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 Vai, vai, vai Sì, vieni da me L'ho risucchiato L'ho risucchiato No, vabbè, ce l'ho fatta No, vabbè, così easy Pensavo che andasse avanti Ce l'ho fatta No, vabbè No, vabbè, ce l'ho fatta No, ti prego, dimmi che Dimmi, dimmi, dimmi Oh, ce l'ho fatta Oh, sì Oh No, 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 no Mi ha salvati No, perché ho sempre paura che torni fuori, eh Sì Ora dobbiamo scappare No, adesso crolla tutto l'hotel Gli ha strappato le fondamenta con quell'attacco Mamma mia Vai, vai No, non mi Luigi Ok Oh, mi ha salvato GG Basta che non si sia rotto il quadro Chissà cosa succede Ce l'abbiamo fatta Ok Beh, dai Una E adesso tengo solo lei Gli altri non li faccio uscire Così ho una bella moglie I miei schiavetti Dobbiamo andare a fare il carbone Eccoti qua Strambi Colui che ci ha aiutato più di tutti Mamma mia Quanto ci ha aiutato Ci hanno aiutato più i Toad Ho detto tutto Ci abbiamo fatta Ragazzi Liz Cosa possiamo fare con questa roba? No, dai No, sono usciti E quindi? Eh ragazzi Mi spiace Non c'è più nulla da fare Ma cos'era? Gli dava potenza? Avete visto ragazzi? Avete fallito comunque Dobbiamo ripararlo Dai Ne costruiremo uno più migliore Più spaventoso Più bello Tu sei un po' scemo Tu sei un po' scemo comunque Bene Abbiamo vinto Abbiamo finito Credo Questa volta Per davvero Eh sì Oh Sono contento Da una parte Mamma mia Però è stato veramente Un bel gioco Mi sono molto divertito Uh Vediamo un po' Congratulazioni Grado B Eh dai Non male grado B Poteva essere A Ma Non avevo il tempo Di prendere tutte le monete Ho sentito che se prendi Grado S L'hotel è ancora più alto Un po' più modesto Di prima Ugualmente Come la scena finale Di Toy Story No Aiuto E si ritorna Volta il cucciolo Non ci ha mai abbandonato Tranne quando serviva Quello sempre È stata proprio Una bella vacanza Magari ho dormito Tutto il tempo In realtà Era solo un sogno Chi lo sa Chi lo sa Bene Mamma mia Che gioco Fine Bye bye Luigi Allora sì Certamente Alcune cose Magari le poterono far meglio Secondo me Tipo l'arma che si potenziava Un po' di più Perché alla fine aveva Più o meno quegli attacchi Qualche potenziamento in più Tipo quello A tempesta Che l'ho vista solo una volta Ci stava Ma per il resto Dai È stato un bel gioco Devo dire Molto belle le idee Alcune coreografie All'interno Tipo la discoteca O il mondo dei maghi Soprattutto gli ultimi Veramente sono stati Molto molto Innovativi Ecco sotto quel punto di vista Mi sono molto piaciuti Beh ragazzi Ce l'abbiamo fatta Abbiamo finito Luigi Come promesso Sono contento di aver Insomma Concluso una serie Perché tante volte A volte ci perdiamo Non riusciamo a concludere Questa l'abbiamo conclusa È qui nel canale Ed è bello averla lì Quindi Spero che vi sia piaciuta Potrete sempre riguardarle Finché Gabi CGP Esisterà su YouTube La serie sarà lì Quindi Niente Fatemi sapere le vostre opinioni Fatemi sapere Cosa è stato Luigi Mansion 3 Per voi Sono molto curioso di leggerlo Io anche se magari Non rispondo a tutti Comunque tendo a leggere Tutti i commenti Quindi Dai Aspetto Con impazienza Le vostre opinioni Me lo giocherò Forse il multiplayer Un po' per conto mio Forse anche in live Quindi tenete d'occhio Il canale Se volete ancora vedere Qualcosa di Luigi Mansion Ma per questa serie Concludiamo qua Io spero vi sia piaciuta E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ragazzi Grazie a tutti